Venne raccolto anni fa gravemente ferito dopo che era stato investito da un'auto. La famiglia pistoiese che se ne prese cura, credendolo un cucciolo di cane, lo adottò e lo chiamò Rufus. Scoprendo poi che quel cucciolo, inizialmente identificato come cane anche a causa della sua anomala colorazione molto scura, in realtà era un lupo, come confermato dalle analisi genetiche. Adesso il lupo si trova in ottima forma, tuttavia i postumi delle fratture, alle zampe posteriori, non completamente recuperati, non gli consentono di poter tornare alla vita libera in natura, perciò è stata individuata quale struttura più idonea per la sua detenzione definitiva il centro fauna selvatica, il pettirosso di Modena. Inizialmente a causa di una sua colorazione anomala fu scambiato erroneamente per un cane e successivamente le analisi genetiche hanno confermato che si trattava di un lupo, quindi è stato comunque curato anche con interventi chirurgici abbastanza particolari, il nesto di protesi sulle zampe posteriori e adesso che il lupo, l'animale, si è completamente ristabilito, verrà trasportato presso il centro di recupero fauna selvatica, il pettirosso di Modena dove potrà avere un ampio spazio a sua disposizione insieme all'assistenza che necessita.